Nell'anno di Expo, all'insegna dello slogan Nutrire il pianeta, arriva l'invito a tavola di Mini Art Textile. Questo è infatti il titolo della 25esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Textile Contemporanea, in programma dal 9 maggio al 21 giugno. Invito a tavola mutuando una frase, un motto di Maria Lai, un esponente dell'arte textile italiana scomparsa un paio d'anni fa, che dichiarava l'arte deve diventare cibo da offrire a una mensa comune, quindi un nutrimento per lo spirito e per l'anima. Il filo conduttore, la materia textile oppure le tecniche della tessitura. Non lasciatevi però trarre in inganno perché non vedrete tessuti esposti. Chi conosce già la rassegna si è abituato ad aspettarsi grandi scenografie e importanti installazioni. Curata da Luciano Caramel, la mostra avrà tre sedi espositive. Nell'ex chiesa di San Francesco, a Comodo, la rassegna fa ritorno dopo l'esperienza di Villa Olmo, spazio a grandi installazioni e a 54 mini tessili selezionati dalla giuria e rappresentativi di 25 paesi. Installazioni di artisti internazionali anche a Villa Bernasconi a Cernobbio, dove verranno ospitati anche gli eventi culturali legati ai mini art textile. Infine nell'anno di Expo anche una sede milanese nel foyer dell'auditorium Testoria Palazzo Lombardia. Per i turisti che vorranno visitare la mostra e al tempo stesso scoprire le bellezze del lago di Como, domenica 17 maggio sarà possibile approfittare del servizio del battello di arte e arte. Per informazioni consultare il sito miniartextile.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.